Guarda qua, ho battuto il mostro. Eh, romai, non lo farò vedere quando lo combattevo. L'ho battuto, ho sbloccato la terza skin. Minchia, che culo, che culo ho sbloccato. Eh, ho sbloccato la skin. La terza skin, non sono mai arrivato qui, eh. Minchia, la seconda volta che mi ha battuto questo bastardo. Eh, ma io sono un po' tenta adesso. Minchia, ho preso... Sì, ma aspetta. Hai visto che lancia avevo? Ma hai visto che lancia, ragazzi, tutta lampeggiante? È una lancia tipo di Udino, quelle lancie, minchia, leggendari. Minchia, di livelli 4.000, 3.000. Minchia, una lancia così, sciotto tutto il gioco. Comunque la lancia, tutto il gioco sciotto. Eh, minchia, sono lancia... Bisogna spendere 20 euro per avere una lancia così. Comunque la lancia lì, livelli 200, te la mangio a colazione. La rabbia di compagno di rivisto, ho battuto. Ho battuto, devi essere forti, costruiranno nuove vivere, schiantando più deboli. In questo ramegno a terra, il fogano fombre, figlio di Loki. Avrebbe messo la prova ferma in deruzione. Libererà il filo di prigioniero. Ah, il libro, il filo di Loki. L'addio di vendette, l'odore di fiamme, brrrr, oscuro, oscuro. Conduttono alcune vendette che avrebbe mai scoperti. Eh, zingarello. Buono, sì, 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 mi ha dato anche una skin. Sì, una skin nuova. Una skin, una skin che quando gioco qui ho la mia skin. Minchia. Eh, 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 eh. Sì Sì Dove cazzo sono arrivato fino a qua? Guarda quante energie avevo Però un pelo di culo non mi ammazzava Sì, guarda che lancia Sì, con questa lancia qui ho shotato subito Guarda, guarda, si ricarica da sola, guarda Senza ammassare nessuno si ricarica E poter... E mica, è leggendario, vedi che lampeggia Ma grazie a cazzo che ho vinto Ma guarda che devo ringraziare la lancia Se io non la compravo L'ho comprata dal mercante Il mercante, il mercante Me l'ha data Se io non la prendevo Che cazzo sta roba sembra quella di Goku Goku, Super Saiyan Sembra quella di Goku Quando come lui va dalla sigma Vado una carn analysts Oh, madonna Ma cosa c'è Paczo Paczo Ma si buttati Wesley M***a a te sei fuority E sada si recognizingi, da sopra C'è Paczo sei M***a Io non fare il bagno ... Resume Perchè? Cosa c'è Ma tanto è chiuso non penso minchia sempre ho rotto il colpo minchia mi ha figliata ragazzi minchia dove cazzo sono arrivato minchia dove cazzo sono arrivato in un punto dove non sono mai arrivato ti giuro che qui non sono mai arrivato arrivare fino a qui è dura non penso che il gioco mi fa ricominciare da capo se no minchia veramente mi ammazzo eh ma sta lancia qua gli rompo il culo fidati c'è un altro mostro guarda come le sciolta guarda 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 come le sciolta sono livelli alti eh questi guarda come le sciolta hai visto come le sciolta te l'ho detto che le sciolta guarda 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 come le sciolta te l'ho detto guarda che questo qua è forte sono livelli alti qua eh minchia mi cazzo bastardo bastardo aspetta 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 un attimo voglio vedere le monete che ho preso ma che ho ammazzato il mostro 81 monete posso prendermi gli stivali in più in più in più mi posso prendere pure l'arco ancora 20 punti ho fatto pure gli stivali si ho fatto 100 punti stasera 100 punti e chi cazzo le fa 100 punti e poi mi dite che io non sono bravo a fare le sfide e qui io scioppo io cazzo guarda là e dai come si fa i culi a giocare guarda che arma leggendaria lancia leggendaria ho sbloccato una skin mi hai dato anche una skin nuova però la puoi usare solo qua però è bella e dopo la proviamo dopo la proviamo tanto ci devo andare qui tanto una volta che perdo una volta che perdo me la dà in automatico capito come se sta roba schianto della dello giorno cominciamo ad andare avanti nuova abilità schianto dello youtube youtube ma da qui devo andare sono sicuri vabbè andiamo avanti sarà di qua non lo so dove cazzo dobbiamo andare non ho capito un cazzo ma vabbè nello stesso mamma mia è pericoloso di qua se cado parterra sono cazzo miei oh madonna mia mi ha tutto è caduto cazzo e mo mamma mia sono fottuto qua se dietro non si può più tornare ma non c'è un animale mi ha tutto a piedi me lo devo fare minchia è un rotturo di coglioni minchia è un rotturo di palle andare a piedi qua cazzo sembra a piedi a piedi a piedi a piedi minchia è palle minchia è tosta a piedi tosta a piedi minchia sembra a piedi minchia guarda quel bastardo guarda ma io lo ammazzo da di dietro faccio il tempo minchia è un forte minchia minchia va minchia è un rotturo di palle di me che mossa madonna che mossa potente che cazzo di mossa è la madonna ma che cazzo è sta roba sta minchia è diventato potente il mio compagno addio fama che cazzo è diventato Hulk sta minchia è potentissimo cazzo è potente comunque anche se perdessi i punti mi ha fatti anche tanti e che cazzo me ne frega ne ho fatti tanti più punti non me ne ha fatto un cazzo se fermo capito ma no non me ne frega più un cazzo tanto ormai quello che ho fatto non ho dovuto fare l'ho fatto quello che dovevo fare l'ho fatto non mi interessa capito a me mi interessava prendere gli stivali ma ormai ho preso tutto che me ne frega quanti punti ho fatto fammi vedere vedere minchia 85 punti mi mancano ancora 85 90 15 punti minchia 15 punti non le faccio domani ma anche se perdessi ne spendo 50 ne faccio ancora 45 35 35 15 punti ne faccio una minchiata domani mattina vado lì o pomeriggio quando c'ho tempo quando c'ho i cazzi miei vado lì pum 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 faccio 15 punti mi prendo l'arco e poi c'ho ancora un'altra cosa c'ho la c'ho ancora l'arco se riesco prendono stasera mi devo del pensiero mi devo forse meglio così me lo devo dal cazzo vediamo adesso cosa mi dà vediamo non è facile boh qualche punto ma vediamo quanti punti mi ha dato adesso i punti 89 buono 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 se arrivo a 100 stacco mi faccio ammazzare me ne vado mi faccio uccidere sì ma si è perché non me ne frega un cazzo di andare avanti tanto prima o poi mi ammazzano perché tanto non vado tanto lontano ancora c'ho poche energia quindi non durò tanto nella partita perché più bevanti piuttosto comunque proviamo a vedere riusciamo a arrivare a 100 punti non mi dispiacerebbe perché più avanti più il gioco dovrebbe darti dei punti e certo è più difficile quindi lui è obbligato a darmi punti velocemente perché è difficile quindi lui in automatico più la difficoltà è alta più lui ti dovrebbe dare i punti più facilmente e certo non è più una cosa facile qua qui si parla di livelli alti quindi in automatico dovrebbe darmi poi boh non lo so adesso vediamo dove cazzo devo andare adesso qua un madonna ah di qua penso di sì penso che devo andare di qui no cazzo me so non so nemmeno io dove cazzo devo andare volta ok c'è un cazzo qua dentro c'è poi l'affare dell'energia che mi serve l'energia, senza energia, che mi serve sì, senza energia, l'energia l'abbiamo presa, almeno quella, mi sento fortunato stasera, non lo so perché, mi sento fortunato, non lo so, non lo so, forse mi sento fortunato, forse sbaglio, forse no, non lo so, comunque minchia, buono, buono, minchia guarda che non è facile quello che ho fatto eh, tosta, è stata tosta eh ragazzi, è dura quello che ho fatto, non è facile, è stata dura, combattita, è stata combattente la partita, minchia è stata tosta, minchia, mi ha già fatto il culo, è stata tosta la filozza, guarda che c'è, e chi è questo, e chi è che cazzo è, perché riparare questi punti, se cadono a pezzi, senza offese, ma mi sembra un lavoro inutile, questa è la vita dei morti, ciò che corrode questa morte, siamo nell'inferno, eh l'inferno, quel purgatorio, questo, questo qui se non sbaglio, è il purgatorio, è una specie di, e qui guarda che qui sei in paradiso eh, c'è il paradiso dove siamo noi dagli dei, dove tu inizi la partita, che quello è il paradiso, ci sono tutti i Thor, tutti quelli, quello è il paradiso, diciamo così, che vai con i Valhalla, che dicono il Valhalla eh, e poi ci sono loro, qui all'inferno, questo è l'inferno, e poi ci dice, un'oscura congrega di druidi, mistici e sacerdoti, che serve il signore di queste isole fetide. Nidhog, conosco quel nome, una creatura dalla depravazione leggendaria, regna qui. Già, attinge alla linfa delle radici di Yggdrasil, mentre le sue mani gli forniscono i morti di cui si nutre. Le stesse responsabili del male che corrode questi ponti. Se le elimino, renderò più agevole il mio passaggio qui. Quel male è generato da Nidhog, ma amputando le sue mani ne rallenterai la diffusione. Può iniziare dal mio padrone, è un druido oscuro che pattuglia questa zona vestito di abiti che incutono terrore. L'idea a Tresi. L'idea a Tresi. E' dura scovare il druido oscuro nella nebbia Ma i suoi abiti sono inconfondibili Deve essere il druido di cui mi parlava lo schiavo Sicuramente Andiamo a vedere chi cazzo è questo Minchia acqua perde Qua perde No come ammazzo livelli 40 eh Livelli 40 amiche sono livelli Raffanculo muori coglione Ma come cazzo sono come bastardi No come toglione Muori pirla Muori pirla Pirla Nio pirla Come cazzo sa E dove sta avuto lo stronzo di merda Ma sai come mi ha detto Minchia Minchia l'ha seccato di conno 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 E' bello Oh madonna Cazzo è Minchia l'ha seccato di conno Minchia l'ha seccato di conno Grazie a tutti. 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 Ma no, io penso che dovevo salire, non scendere. Eh sì, sicuramente lo sapevo. Un potenziamento arma. Mettiamo questa qui. È ancora più forte. Un potenziamento arma che c'è sta ninja che potenza che c'è sta cazzo di arma adesso. Eh ma come hai fatto a scendere, scusa, come scendo questa minchia scende, scusa. E come scendo da lì? Eh, ma non scendo. Come scendo? Ma come faccio a scendere da qui? Eh, da qua devo scendere da qui. Andiamo bene. È un casino a scendere da qui. Eh, è un casino a scendere da qui, eh. E l'energia? Scusa, non c'è l'energia, non c'è l'energia. Quazzo. Guarda che bastardo. L'energia dov'è? Eh ma se non c'è l'energia perdo, eh. E come cazzo scendo? Come non vado a prendere l'energia? Vai vila per il culo. Ma dai, ma vabbè, fa un culo. Come l'energia non ce no. Come cazzo vado dalla sapata, scusa. Eh, cosa qui è difficile, te lo ho detto, difficile. È difficile, è qui, è troppo difficile, cioè, è assurdo. Come cazzo vado dalla sapata, scusa. Come vado dalla sapata? E qui non prende che andare nell'acqua. Che, eh, come cazzo vado? da sapata, allora. Oh, madonna, ragazza. Oh, madonna, 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 madonna. E ora come cazzo vado dalla? Ah, non lo so. Un bel problema. Ma come cazzo vado dalla, scusa. Sssssh. Puttana troia, mi girano troppi i coglioni. Senti, sai che ti dico? Buttare l'acqua. Eh, boh, morto dai, sono morto, non c'è stare. Meglio così, no, basta, non c'avevo più voglia, basta. Stasi, vi faccio vedere la skin. Andiamo a vedere la skin. De fortuna, il trovi torno un minuto. Ma no, ho ricomincito da qui, no. Timo da qui, come da qui. Oh, che palle, che palla. Come palla qui, cazzo, vuole dare farlo a morire, cazzo. Non sono morto. Ma dove cazzo si, scusa, allora, ragazzi. Eh, non ti può passare, non ti dice niente. Non ti dice niente. Come cazzo vado dalla sua fatta, scusa. L'ho capito, ma se non mi può passare, scusa, come cazzo vado dalla sua fatta. Ah, come vado a morire, scusa. Spiegami un po' come faccio, perché io non ho capito. Eh, ci capito un cazzo, io veramente. Ci capito un cazzo, no. Eh, cazzo, non so, va, più giorno, ci capito un cazzo. Ci capito un cazzo, non ci capito un cazzo. E' un gioco di merda che fa così, perché è un casino da vera la nostra fatta. Cioè, scusa, io come cazzo vado dall'altra parte adesso? E come cazzo vado da la sua fatta, scusa, dove non fare? E' un puttanaio qui, ninchi, è un casino. E come faccio, scusa, spiegami. Come ninchia faccio? Ma se stanno in merda nel gioco. E' una merda, di un po'. E' sì che è una merda, cazzo. E' come cazzo vado dall'altra parte? Questa coppola di cazzi? No, ma qui è un bar, è un assurdo, scusa, non ti spiega un cazzo, non ti dice niente. Non faccio, faccio. E' un casino, di un po'. E' un casino, non ti spiega niente, mi sembra un genomico bionica, non riesco a capire come fare. Cioè, capisci? Non ti spiega niente, proprio niente, niente, proprio. Il mastardo. E' una merda, di un po' così. Ma come cazzo vado dall'altra parte? Scusa. Ah, boh, si blocca qui. Non ho capito, boh, non riesco a capire. Non lo so, non riesco a capire, boh. Non lo so. Mi dice di andare di là, ma non va di là. Qua, si blocca. Aspetta, però forse ho capito, forse ho capito. Là sotto. No, no, ho capito un cazzo. Non si va di qui. No, perché qui sotto ritorno appunto di prima, cazzo. Eh sì. Ma io dove cazzo devo andare? Ma io devo salire, non devo scendere, sai? Ma io devo salire. Siccome devo salire, perché mi sembra strano. Fammi vedere un po'. Tu hai il cazzo voi, tu peradiota. Siccome devo salire, perché mi sembra strano che lui... Deve scendere, perché scendere non c'è sotto. Lui c'è un cazzo sotto. Oh, madonna. Che casino. Che casino. Oh, madonna. Forse non riesce a fare questa salire. Sto facendo. Mamma mia. Cazzo, sapevo che facciamo sto giro. Cazzo, puttana ladra. Sapevo che andava a finire così. Ma sapevo che andava a finire così. Dai, ma ce la fai a salire, cazzo. Dai, sei sempre salito. Minchia, quello là del ladro saliva sempre. Il coglione lì, sì, saliva. Lui non sale, fa fatica. Non capisco perché non sale, sto coglione. Perché è un pirma. Oh, non sale, dai. Non sale. Non capisco come mai non sale. Non so come fare. Non so come far a salire. Non capisco cosa devo fare. Non lo so, non lo so, non lo so. Ti giuro su Dio, non riesco a capire cosa devo fare. Cioè, qui non va. Di là non va. Di qui non va. Dove cazzo devo andare? A meno che non devo scendere di lì. Però di qui non dice niente. Di qui non dice niente. Ah, ma aspetta però. Aspetta, forse l'ho trovato, sai? Minchia, l'abbiamo trovato. Avanti, l'affanculo, il gioco di me. Disputo il pace, bastardo. Che filo di puttana. Minchia, dopo trent'anni. Dove cazzo era? Che filo di puttana, guarda. Mi ha fatto diventare scivolo per dieci minuti. E' un po' lui. E' un po' lui. Che tosta, è stata partita. E' dur, l'ambiente. Ma che composta. Non c'era alla chiamatura. Ma io so, ma che fa tutto questo posto. Io ho toccato la turbussante. Sto pezzolino a me. Cs. Narduz. Cos'è questa qui? Illusione. è uguale tanto perdiamo ma si mentre con cazzo è uguale affanculo stronzo che sta come sto per morire eh sto per morire te vabbè mi sto per morire affanculo mi chiede il culo mi chiede per un pelo io qua per un pelo morivo eh si ma tanto muoio non duro tanto non duro tanto muoio non puoi morire non duro tanto non prendo dell'energia tanto non duro tanto vediamo quanti punti ho fatto mi interessano l'inventario quanti punti 97 dai che ne abbiamo fatti ancora ancora tre punti e poi se muoio se vincono ve ne prendiamo veramente mi dico la verità non cazzo di niente mi interessa perché tanto quello te l'ho detto ripeto quello che mi interessa è fare i punti per per la cosa cos'è quella roba la so cos'è quella roba giurita devo vedere su non lo so minchia che pane vuoi salire su strozzo idiota minchia ma sei pure uno stronzo sei eh minchia sali no sali ma che cretti ma vai a far culo muori ma levati dal cazzo almeno va vogliamo prendere la skin dai dai guarda cosa mi ha dato tributo nel trago e minchia due skin e due skin due skin due skin mi ha dato zi 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 due skin eh si le fisse le storie dai vuoi vedere le skin dai andiamo a prendere le skin dai cazzo muoviti andiamo a vedere le skin cazzo non vedo l'ora di vedere la skin minchia ma scherzi oh la skin sta cercando una visione che possa aiutarti ah ok c'è la tipa adesso ma che sono andato avanti nel gioco la cultura maligna è morta ed è viva di morte si sazia o le radici si trazia credi che sia elle vedo un trono immerso nell'oscurità re o regina il suo cuore si illuminerà è come nella tua visione va altri su un trono assilettio un sacrificio compiuto il prezzo pagato un principe appare un altro ha giurato dai ne hai tratto qualcosa di utile hai confermato ciò che pensavo dovrò affrontare elle per trovare Valdra c'è anche la parte sul sacrificio non dimenticarla un sacrificio che cosa ti aspetti sono il signore dei sacrifici e io non ho la forza di discutere fa ciò che deve ma assicurati che il prezzo non sia troppo alto voglio vedere le skin che mi ha regalato le skin le skin accampamento di odino ok ma le skin dove sono? no no ci sono mi chiama allora aspetta aspetta no no ci sono sono qui le skin dove sono andata a trovare adesso non mi ricordano qui è tutto diverso ma come cazzo è possibile? come era così prima? ah sì sono andata a questa parte le skin dove cazzo stanno? ah ok sono là in fondo le skin sono curioso sono curioso di vedere le skin solo per guarda qua guarda qua guarda che me l'ha data non è questa la skin? sì che è quella la skin vedere? allora che cazzo? eh ci ha dato questa cazzo che bella cazzo che bella cazzo che bella e questa cos'è? oh che bella questa questa è bellissima potenzia e poi potenzia che comunque è bella le potenzio tutte e due però questa è più bella vediamo un po' sta skin guarda che bella ragazzi guarda che skin oh 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 che bella che bella bellissima che skin ma che minchia di skin è? ma che figa Dio fa ma che figa è fighissima è troppo bella minchia che spazio minchia 685 di punti 685 punti sta minchia 685 ma sai quanti sono? sta minchia sono tantissimi cazzo 685 punti porca troia soffio della morte schia schiviare appena prima di un attacco minchia ora quante cose mi ha dato illusione illusione minchia sono in dato potentissimo adesso si minchia ora che bella skin questa qui è la skin di quello stronzetto che si è comprato su eh bella è bella minchia ora che skin belle 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 skin peccato che non le posso mettere nel gioco normale solo quale per usare eh la rotula di codione purtroppo guarda che bella guarda che bella bella eh c'è questa ce ne ho 4 di skin adesso no? no si 4 1 2 3 perché mi ha dato questa? no aspetta dovrebbe averne più ok mi ho una faccio una 2 ho sbloccato poi ho sbloccato questa che è questa qui si ok questa qui quella nuova che mi ha dato adesso e poi c'è questa qua vedi 1 2 3 e perché quella nera non me la fa vedere? ah eccola qui quella nera 4 ok 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 è qui è qui è qui è questa qui è questa qui si 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 e poi ci sono altre due che sicuramente saranno quelle due dietro o no boh non lo so comunque è bella questa schema anche eh guarda che bella questa quella fatta così è brutta è questa qui guarda che bella con l'occhio tutto acciccato un'occhio vedi che c'è un occhio diverso e lo vedi che c'è un occhio chiuso dalla pattenessa ha un occhio bentato comunque la più bella secondo me è questa qua questa qua è la più figa eh mica è la più bella è la più bella questa qui è bella so tentati con un colore dipende che bella skin andiamo a prendere un attimo andiamo a prendere le nostre skin invece nel gioco va andiamo a prendere le nostre skin eh sì ho le mie skin da prendere magari me la regalasse questa qui ma non me la regalo si no le puoi usare solo qui ecco questo gioco qui non mi piace perché è una merda è una merda si è una merda fatti va a regalarme le avevo bene la stessa andiamo a dormire va stacchiamo stacchiamo perché è tardissimo non vuole far tardi mi dico qualcosa mi ha dato fastidio che me le fanno usare solo lì fatti va a regalarme eh vedi se mi si è fatto il culo permetti eh minchia permetti permetti almeno la skin è quella lì posso usarla nel gioco normale ti piacerebbe vedere ciò che ha ispirato fammi vedere che è che è insah flow e sì Ecco dove si prendono Per fare l'armeria Per fare l'armeria si prendono qui Il carbone, vedi? L'ingotto di carbone Hai visto dove si prende? Si prende qui Per fare quella cazzo di merda lì Che gioco di merda, che bastardo Hai visto dove si prende? Si prende qui Che bastardo, hai capito? Un lingotto Madonna Quanto viene? 35 punti Si, ma lo faccio Ma non è giusto E no, amiche, è una bigliettata E' una bigliettata E' una merda, si, è una grande merda Una schifezza perché non mi piace Sono questi gli strati Oh, madonna, che brutto Ma così, è schifo Ma così, vedi? E' schifo E' una cosa più diversa E' una cosa più diversa E' una persona diversamente A me diceva, amiche, che schifo Piazzata Piazzata Schifo Che schifo Non mi piace Pensavo diversamente, cazzo Ti giuro, pensavo diversamente Pensavo diversamente Ti giuro, pensavo diversamente Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Pensavo tutta un'altra cosa non lo so non mi è stupito questo skin un modo schifo un romano mi sembra sembra un romano schifo non è scritto schiena ora è così maschini ha fatto così brutta la mamma perché lui c'è un minigone non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace e non è andato va bene stasera devo farla vedere va bene va bene ragazzi vi sono molto bravato a tutti dai scappati ciao 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 ciao